Ho accettato molto volentieri l'invito che mi è stato rivolto di condividere alcune riflessioni su cosa significhi per me raccontare e interpretare il mondo, il mio mondo a mio modo, attraverso il medium che più mi è congeniale, cioè la canzone. Comincio col dire che da parte mia non c'è mai stato nulla di premeditato, sono innocente, non ho mai pensato deliberatamente di raccontare la mia visione del mondo, però dopo quattro album pubblicati, voltandomi indietro, cosa che non faccio quasi mai se non in particolari occasioni, certo mi rendo conto che qualcosa alla fine ho raccontato, quantomeno interpretato, e che si tratti di fatti legati alla mia biografia o accadimenti del tutto esterni, quello che oggi mi è chiaro è che tutto è soggettività e l'oggettività non esiste. Di un personaggio tratteggi certe peculiarità e ne tralasci altre, di un paesaggio ti soffermi sulla finestra illuminata di una casupola e ignori il bosco tutto intorno, cioè del contesto cogli solo ciò che la tua sensibilità, il tuo vissuto ti portano a cogliere e già questo ti differenzia da tutti gli altri e seppure gli altri guardassero la stessa finestra illuminata e non il bosco, i loro occhi sarebbero comunque diversi dai tuoi perché nessuno può vedere la stessa cosa nello stesso modo di un altro, ognuno di noi è un punto di vista, quindi la soggettività che sta agli antipodi di qualsiasi verità e infatti per quanto mi riguarda una canzone è una bugia, è una bugia anche quando è sincera, anzi più è sincera più è bugiarda, ma pure l'arte in generale è una meravigliosa bugia, è una menzogna a cui facciamo finta di credere perché il mondo così com'è sarebbe altrimenti una delusione continua, per questo per fortuna proliferano le interpretazioni di un mondo che spesso non ci piace e gli artisti sono formidabili generatori di interpretazioni, una fotografia, una poesia, una canzone, un dipinto sono tanto più vitali e interessanti quanto più sono in grado di stimolare a loro volta interpretazioni, magari nobilitando un disagio esistenziale o trasformando la nostalgia, la malinconia in qualcosa di alto. Detto questo io ho sempre cercato di muovermi pensando che tutti alla fine siamo fatti degli stessi ingredienti, ma, e qui sta la discriminante, in dosi diverse e ho provato come un alchimista ad usarne parecchi mescolandoli per ottenere delle pozioni particolari. Il mio ingrediente fondamentale è il linguaggio, il linguaggio musicale e il linguaggio verbale, note e parole. Mentre le note fluiscono più naturalmente, le parole sono per me motivo di rovello, proprio incessante, perché si capiscono. E anche se le mie sono parole non informative, cioè non sono parole che danno informazioni, ma sono parole evocative, cioè provano a suggerire, a suggestionare, muovendosi spesso in una specie di vaghezza. E già Leopardi distingueva fra termini e parole. E mentre i termini indicano in modo preciso, perentorio, inequivocabile, le parole sono indefinite e si caricano di sensi accessori. Sono questi sensi accessori a secernere il poetico, anche nella canzone. Mi capita talvolta di usare dei vocaboli duramente connotativi, ma sono un'eccezione, gustosa, stimolante, ma pur sempre un'eccezione. Io del mondo ci capisco molto poco, perciò preferisco rifugiarmi nelle parole e non nei termini, così corro meno il rischio di dire delle scemenze. La scrittura, nel mio caso, di una canzone è spesso il parto della memoria involontaria, cioè ho un'idea di ciò che voglio dire, ma quello che è un nucleo primordiale abbastanza superficiale acquisisce via via spessore ed assume una qualche accettabile forma estetica solo nella sovrapposizione di piani temporali diversi, come le sfoglie di una pasqualina, il passato nel presente e il presente nel passato. Mettere in scena contemporaneamente Caino e l'amico che ho incontrato ieri sera annulla ogni distanza, è dissacrante, è strano, ma proprio per questo mi interessa, cioè mi affascina questa sorta di extratemporalità che dilati all'inverosimile la nostra percezione della storia e del mondo, spesso confinata nella gabbia del qui e ora. Il mio tentativo di interpretare quel po' di mondo che mi circonda è probabilmente legato a quest'ansia, a questa paranoia di annullare il tempo e di offrire una chiave di lettura che trascenda la contingenza, perché nulla vada perduto. Perciò rifuggo le canzoni politiche in senso stretto o d'attualità, perché intanto bisogna esserci portati ed io non lo sono, e poi perché, a meno che non si tratti di capolavori, hanno vita breve. Più sono connotate precisamente, meno resistono all'usura degli anni, diventano un documento storico, un reperto, e tranne che per motivi di studio mi interessano poco. A me piace invece indagare a fondo me stesso, le viscere, rovesciarle sul tavolo. La delusione di un viaggio e di un amore sono uguali, perché entrambe queste delusioni testimoniano la nostra impotenza a realizzarci nel godimento materiale, nell'azione effettiva. La creazione artistica invece si nutre di suggestioni impalpabili, che impressioni e reminiscenze riportano a galla, ma in penombra. Bisogna quindi convertirle in un equivalente fruibile, magari assemblando elementi noti, ma accostati in maniera inaudita. Ecco allora che sprigionano significati nuovi. Più due elementi sono distanti uno dall'altro, più accostati generano scintille. Si può stendere un elenco descrittivo degli oggetti e non succederà nulla. E invece la scintilla scoccherà solo nel momento in cui l'artista prenderà due oggetti diversi, li porrà in rapporto e fisserà questa analogia in bello stile. È come se ci si accorgesse della bellezza di una cosa nella bellezza di un'altra cosa, ad esempio della quiete di un pomeriggio primaverile a Rapallo nel suono della campana della chiesa. Per esempio, in una canzone del 2018 intitolata Steamboat Willie, ho azzardato accostamenti arditi che però in questa risistemazione hanno trovato una nuova ragion d'essere, stramba, sghemba, assurda quanto si vuole, però diversa. Ed è questo il punto. Bisogna cercare, a parer mio, di adottare uno sguardo diverso per allontanarsi il più possibile dal già detto, dal già scritto. Per carità, niente di nuovo dal punto di vista metodologico. L'hanno fatto e lo faranno in tanti, ma Steamboat Willie l'ho scritta solo io. È mia. È nuovo, non il metodo, ormai non si inventa più nulla, ma il risultato. E il risultato è figlio della soggettività. È irripetibile, come dicevamo all'inizio. Io cantavo così. Spengo Lugola con del gin, lalli, galli, piaccia al nazi, skin. Figaro spende per il cappello. Quanto è bello lo chalet Berghof, ruba, ruba, raskolnikov. Gioca all'otto, tu puoi fare un terno. In una sestina, in questa sestina, ci stanno il proibizionismo, i vatussi di Edoardo Vianello, gli Schined, Mozart, Hitler e Dostoievski. E non per caso. Ci sono delle associazioni a delinquere di pensiero che mi hanno portato da uno all'altro e che non voglio svelare, non mi va di svelare perché le canzoni non vanno mai spiegate e perché ognuno ha il sacrosanto diritto di trovare i propri link senza che nessuno gli dica come fare. Credo ci sia pure un aspetto ludico in tutto ciò da non trascurare, ma certo nessuno potrà arrogarsi la certezza di un'interpretazione definitiva e questo vuol dire infinite possibilità. E torniamo al punto di partenza. L'arte deve generare interpretazioni. Parto sempre dal linguaggio verbale, in questo caso, e il linguaggio va slabbrato, violentato, cercando una strada obliqua rispetto all'ordinario. Nell'ultimo album che ho inciso, La prigione dei pupazzi, ci sono quattro canzoni che a tal proposito non sono neppure più canzoni, ma sono degli organismi alieni, sia riguardo la musica sia riguardo le liriche. In Android canto così. Nel silicio l'esobiologia, lo sciovinismo del carbonio, e sulla crosta della panspermia, le città col telescopio. E' chiaro che in questa occasione, in questa circostanza, siamo agli antipodi del trobarle, ma questo escamotage ultra tecnologico è funzionale alla mia idea di futuro, l'unico tempo di cui non c'è traccia. Il passato lo posso suggerire con gli stilemi in voga in un determinato periodo, il presente con la lingua che usiamo oggi per comunicare, ma riguardo il futuro come faccio. L'unica possibilità che ho è quella di sperimentare un linguaggio, non dico di inventare, ma di sperimentare un linguaggio, usando in questo caso, per me in via eccezionale, più termini che parole. E questo fa sì che si possano avvicinare campi semantici molto dilatati e quindi comprendere una qualche possibilità di futuro. esobiologia, sciovinismo, panspermia, sono in qualsiasi vocabolario, ma sistemati così, assemblati così, cantati così, sono soltanto in android. E quindi torniamo al discorso della soggettività. Alla fine credo che scrivere sia scrivere del proprio libro interiore, che riverbera poi nel circostante. Proust diceva che un'opera in cui vi sia una tesi è come un oggetto cui non si sia tolto il prezzo, ed è esattamente così. La tesi è già filosofia. Io non ho alcuna tesi da proporre. Sono le passioni invece ad abbozzare le mie canzoni e poi la calma fra l'una e l'altra le scrive. Quello che viene fuori spesso sorprende anche me. Così cerco di proporre agli altri qualcosa di imprevedibile, qualcosa che stupisca e che, se possibile, arricchisca o consoli. Questo è quello che cerco e cercherò di fare, sperando di regalare qualche emozione.